Carta canta e il cataio e i dintorni dormono. Il loro sonno è però quasi tranquillo. Anche se il carteggio della soprintendenza del Veneto è chiaro e vincola i terreni dove doveva sorgere il centro commerciale della ditta Deda, i sindaci esultano ma avvertono la guerra non è ancora vinta. No, per il momento è ancora una battaglia vinta perché ricordiamoci che il partito del mattone è un partito molto forte, trasversale, agguerrito e non molerà tanto facilmente l'osso. Fondamentale per Momolo è stata l'ampia mobilitazione popolare e di albergatori, commercianti e agricoltori contro il centro acquisti di Due Carrare. Perché c'è stato anche l'interessamento, sì, anche di parlamentari che hanno fatto delle interrogazioni eccetera, però la pluralità proprio di soggetti del territorio, direi che questa rispetto a 5-6 anni fa non la ricordavo. Questa volta è stata molto importante. 450.000 metri cubi, una superficie pari a 15 campi da calcio, una stima discutibile, secondo Momolo, di mille posti di lavoro. Tra i pro e i contro, sull'opera vincono i contro. Poi l'attrattività di questi centri commerciali in termini di autovetture e quindi di inquinamento e il peggioramento della qualità della vita per tutto il territorio. Non è un tema questo che riguarda soltanto il comune di Due Carrare, riguarda sicuramente un ambito molto più vasto. Soddisfatti anche i colleghi sindaci di Montegrotto e Galdignano, convinti con Momolo che un eventuale stop al centro commerciale non sarà da ritenere una occasione persa, ma una tutela della vita e del paesaggio. Grazie. Grazie.